Giusto per fare un sondaggio, tu oggi quante volte hai risposto ad una chiamata di un call center e hai mostrato vero interesse? Sono Toti Costanzo, docente di marketing strategico e ti do il benvenuto all'interno del video Strategie telefoniche per comprare l'usato al prezzo più basso, soprattutto senza passare da strozzino. In questo video tratto dai corsi di formazione di aula di cattura clienti ti parlo di tattiche comunicative e telefoniche studiate per convincere il cliente a venderti la tua macchina oppure lasciarla in permuta al prezzo più basso possibile utilizzando il marketing istantaneo. In questo video analizzo come le strategie dei call center sono cambiate negli anni, come sono oggi e come dovranno essere in futuro se vorranno continuare ad esistere il call center. Io utilizzerò questo video come esempio per spiegare i nuovi sistemi di lead generation della piattaforma cattura clienti auto basati sull'instant marketing, cioè sul marketing istantaneo. Questo video dura all'incirca 20 minuti. Dentro questo video troverai gli stessi concetti trattati nei percorsi d'aura che durano 3 giorni dove questi concetti vengono approfonditi e adattati sartorialmente alle aziende che ovviamente partecipano. In effetti che oggi già gestisce un call center, mi rendo conto che questo potrebbe suonare proprio come una bestemmia che ha ore e ore di trattative con i lead, potrebbe in un primo momento fare spallucce e considerare questo post totalmente inutile, questo video totalmente inefficiente. In realtà ti dico che per il 40% dei call center questo video è totalmente inutile, per l'altro il 59% sarà incomprensibile perché si basa su una tecnologia di acquisizione lead completamente diversa, basata sulle decisioni istantanee. Chi dopo aver visto questo video continuerà a considerarlo inutile, in realtà non ha ancora a disposizione il nuovo sistema di lead generation cattura ai clienti che sfrutta i nuovi sistemi di marketing proprio istantanei che hanno cambiato per sempre il mondo della comunicazione telefonica soprattutto. Io collaboro con decine di grandi dealer in Italia che vendono centinaia di auto al giorno e con due multinazionali grosse dell'automotive. Insieme stiamo sviluppando percorsi formativi dedicati per ottimizzare le nuovissime tecniche di marketing istantaneo. Come promesso partiamo subito dall'analisi del call center e di come si sono evoluti negli anni. Il sistema degli anni 80 praticamente dei call center, il vecchio sistema cioè quello per il quale i call center sono nati in Italia negli anni 80 era un sistema basato sulle liste di persone, è giusto? Cioè i telefonisti avevano un prodotto o un servizio da vendere e ad ognuno di loro veniva assegnato una lista di persone a cui appioppare lo sciroppetto magico. La rivista magari della polizia, il settimanale della protezione civile o della guardia di finanziamento. Queste persone erano semplicemente prese dall'elenco e ad ogni operatore veniva assegnata tipo una lettera dell'alfabeto. La giornata del telefonista passava così, in modalità porta a porta, cioè cornetta contro archetto nello stile proprio testimoni di Geo, è presente, bustano tutte le porte. La loro capacità di chiusura variava in base al numero di telefonate a freddo che riuscivano a fare. Più ne facevano e più chiudevano. I venditori di call center venivano istruiti sulle caratteristiche tecniche del prodotto poi veniva dato qualche nozioncina di base, di PNL, si insegnavano le basi del ricalco, della guida e poi balli, canti motivazionali per poi femire tutti seduti sulla sedia e chiamare come se non ci fosse un domani. Il sistema invece degli anni 2000-2010, perché arrivò intorno al 2010 in Italia, invece sono nati in Italia i primi funnel con tecnologie di intercettazione del bisogno e lì, credimi, è cambiato il mondo. Sono finalmente scomparsi dai tavoli dei call center, dai monitor degli addetti, l'elenco di persone. E si sono finalmente palesati i potenziali lead generati automaticamente. Questi lead sono presi dal web con le vecchie tecnologie basate sui funnel di attrazione. Per la serie, se mi dai la tua mail, io ti do 6 video, 7 book, 24 lezioni, il ballo del tango e tutto quello che vuoi, il poster, principalmente le modalità di aggancio erano due. Il bisogno latente, che si trova sui social o su Facebook, cioè non sapevo di avere la possibilità di risolvere questo mio problema o esaudire questo mio desiderio fino a quando non ho visto la sponsorizzata che mi ha ricordato che c'è la soluzione a questo problema. Oppure un bisogno esposto, cioè sono consapevole di avere questo problema o questo desiderio e il dolore o l'emozione che mi provoca è talmente tanta da farmi passare all'azione e dire fammi cercare, diciamo, su Google e vediamo se Google ha la soluzione per me. Gli operatori del call center venivano, o meglio, vengono in alcuni casi, in questa tecnica viene ancora utilizzata, dati degli elenchi di lead interessati ed approfondire i concetti appresi nel web. L'operatore del call center chiama entro due giorni, poi parla col cliente per fissare un appuntamento in concessionaria, in questo caso in concessionaria. Due giorni! La lead generation gestita così oggi non funziona per tre principali grandi motivi. Il primo è che i lead hanno un costo spaventoso perché non vengono trattati in modo adeguato, cioè con ciò che si aspetta ogni lead che è la velocità, bisogna essere veloci, no? Secondo, i lead infatti vengono contattati dai venditori che al decimo lead sono demotivati e le liste si riempiono di quei flag non interessato, non interessato, le liste vengono bruciate così. Il terzo è il web, è pieno di contenuti gratuiti, quindi questi sistemi sono fortemente inflazionati. Credetemi, al pari delle chiamate a freddo, non se ne può più, la tecnologia che sarà dominata dal 2020 e le multinazionali in Italia sarà regata all'instant marketing, cioè al marketing istantaneo. Un'intera giornata d'aule dedicata all'approfondimento di queste innovative tecniche. Il sistema di legge generation cattura clienti e auto cattura i clienti che hanno il bisogno di vendersi l'auto o vogliono semplicemente per mutarla portandoti dritti al tuo telefono in maniera, in modo istantaneo, no? Il venditore non perde tempo prezioso perché attraverso due filtri potentissimi, filtri commercianti selezionabili dalla piattaforma cattura ai clienti, è possibile proprio educare ulteriormente il cliente. Questo significa educare il cliente, informare nella maniera corretta le persone che vogliono fare affari con te prima che loro decidano di chiamare altre concessionarie. Educare il cliente è necessario ed indispensabile perché ci sono tre tipi di clienti da evitare come la peste bubonica se non si vuole perdere tempo e soldi nell'attività di vendita, no? Diciamo il primo sono i falsi clienti, cioè i commercianti che si spacciano per privati e ce n'è putiferio. Secondo i clienti che pubblicano solo perché la moglie gli ha ordinato di pubblicare ma in realtà non hanno alcuna intenzione di vendere l'auto, lo fanno giusto per la moglie. Terzo i clienti che pubblicano solo per curiosità di sapere quando potrebbe valere la propria auto dove dicono fammi vedere, fammi provare, fammi inserire questa annuncia su subito. Quindi educare anche se perdi tanti contatti significa soprattutto avere a che fare con i clienti in target cioè con quelli giusti che non ti fanno perdere tempo, capisci? In base poi al filtro selezionato nel sistema di lead generation che attura clienti auto quando il cliente ti chiama sai già con chi ha da fare. Il cliente sai già se sta parlando con la grande concessionaria Fiat, Opel, Mercedes o se sta parlando con il multimarket della porta accanto e questo credimi è fondamentale. Questo è un enorme vantaggio perché la mente del tuo cliente esprimendo in quel momento giudizi di valore sui te confronti ti ha già scelto come si dice in gergolo, cioè se quando ti chiama lui tu assumi una posizione che si chiama posizione di forza. Questo succede perché nella mente di chi sta vendendo la propria auto le leggi diciamo del mercato sono veramente chiare. Il cliente è consapevole che se chiama un commerciante non può avere gli stessi soldi che un privato potrebbe offrirgli. È chiaro no? Il cliente è consapevole che se lui è a chiamare per vendere la propria auto accelera il processo di vendita perché manifesta un'urgenza nel chiudere la trattativa. Io ti chiamo perché ho urgente di vendermi l'auto. Il cliente è consapevole che il commerciante per sua natura dovrebbe offrirgli qualche altro prodotto addirittura se lo aspetta no? Si sa cosa mi offre. Il problema consiste nel fatto che questo mercato è reso veloce dagli internet e il cliente tende a comportarsi come se fosse un vero e proprio vendocomprooro. Cioè tende a misurare il valore della transazione tipo euro al grammo. Questo succede perché negli anni a Amazon e eBay e altri siti di baghe che annunci ci hanno abituato a mettere in fila i prodotti ma anche le auto per caratteristiche, prezzi e quant'altro e il nostro cliente si comporta proprio così, li mette in fila. Ovviamente la copertina se la sistema come vuole lui nella sua mente no? Cioè quando vuole comprare ordina le auto nel sito partendo dal prezzo più basso. Quando invece le vuole vendere o vuole permettare fa la cosa opposta, ordina le auto partendo dal prezzo più alto. Questo succede perché quando tu decidi di vendere qualsiasi cosa, l'avversità alla perdita di denaro ti crea dentro di te del disagio. Quando vendi un'auto che notariamente perde intorno al 10% del valore ogni anno, il dolore provocato dalla perdita è direttamente proporzionale alla tua tasca. Cioè se ti sei potuto permettere di possedere per 5 anni una panda da 10.000 euro, allora oggi soffri per la perdita del 50% del suo valore, quindi per 5.000 euro. Se ti sei potuto permettere una BMW da 100.000 euro, dopo 10 anni avrai bruciato 50.000 euro dei tuoi soldi. Chiaro? Ovviamente siccome nel caso del sistema di lead generation cattura clienti auto è lui a chiamare noi, il nostro cliente sa già che deve affrontare questa perdita e quindi arriva al nostro telefono in un vero e proprio assetto di guerra come le odie da controsesse di cappe e spada che in gergo tecnico si traduce in attenzione selettiva, cioè focalizzato su quello. In poche parole si traduce in questa è la mia auto, io ti assicuro che è perfetta, tu quanto mi dai? Cioè voglio vedere tutti quanto mi danno. Adesso scopriamo come disarmare per sempre le onida rompendo lo schema senza spargimento di sangue. Le strategie di rottura dello schema che possono essere effettuate in tre mosse. Primo, evita le scocciatoie per la serie, io sono qua, quando vuoi venimi a trovare. Secondo, poniti come consulente ultra professionale, devi subito dichiarare come operi il tuo angolo differenziante. Terzo, anticipa le paure del tuo cliente e risolvile. Quando attiverai il sistema di cattura ai clienti, le chiamate arriveranno dopo circa 8 minuti della pubblicazione della tua ricerca e potrebbero essere veramente tante. Se non hai già una risorsa professionale dedicata al call center, puoi commettere l'errore di liquidare velocemente il tuo potenziale cliente e questo succede perché sei impegnato in un altro lavoro, oppure questo succede perché la tua energia in quel momento non è abbastanza alta da impegnarsi in una chiamata commerciale. Questo è l'orrore che non deve essere commesso, perché è in questa fase che i potenziali clienti si trasformano in clienti veri e propri. È il momento in cui ti giudicano. Quando il cliente ti chiama è il momento di dichiarare il tuo angolo differenziante, cioè cosa ti rende diverso dagli altri ma soprattutto cosa ci guadagna il tuo cliente a fare affari con te. La tua competenza e la tua professionalità devono essere percepite tutte in questa telefonata. Attenzione però, non serve perdersi in comizi telefonici, dobbiamo essere sintetici e dire solo ciò che il cliente vuole sentirsi dire. Parla delle paure dei clienti privati che vogliono vendere o percutare la loro auto e risolverli subito. Quali sono le tre principali paure presenti nella mente dei clienti che vogliono generalmente vendere la propria auto? La prima paura è ma mi daranno veramente i soldi dopo la vendita oppure sarà una truffa, si tengono i soldi e se ne scattano? La seconda paura è ma mi arriveranno le tasse e le multe non pagate a causa dell'irregolarità della transazione delle procedure di vendita? Oppure la terza paura è ma mi daranno veramente il prezzo che vale? Come faranno certe strutture organizzate? Saranno degli strozzini o mi faranno solo perdere tempo? Cioè presente come fanno? Non si può dire. Comunque ci siamo capiti. Queste paure è la tua azienda o è piccola o è grande sono sempre presenti all'interno della mente del tuo cliente. Questo succede perché il cliente effettua il primo acquisto del tuo servizio, del tuo prodotto, prima o quale ti chiama? È la sua mente e tu non puoi farci nulla nell'immediato. Servono anni per posizionarsi come leader. Nei corsi di formazione di cattura clienti, il corso di brand position è articolato in tre giorni d'aula. Il tuo cliente ti giudica in base alle proprie informazioni acquisite negli anni su di te e nella tua zona. Cosa si dice in giro della tua concessionaria? Sei leader del mercato oppure sei uno strozzino che mira il prezzo? Quante auto vende questa concessionaria, vende poche auto, ti concentri sugli affari oppure distribuisci centinaia di auto al giorno? Da quanti anni esiste nel mercato della concessionaria? Sei nuovo su internet, sei nella meteorite oppure un'azienda presente al mercato da 85 anni? È chiaro, questo giudica il tuo cliente. Ecco perché esistono nel sistema cattura clienti due filtri commercianti. La gente deve sapere prima con chi ha da fare, ok? Partendo dal fatto che il tuo cliente è a decidere se fare affari con te, in base al filtro commercianti che hai utilizzato, il cliente saprà ancora prima di chiamare se ha a che fare con un commerciante generico, quindi deve ancora giudicarti nella sua mente e sarai tu a presentarti oppure avrà da fare con un commerciante esposto leader e addirittura sarà già chi sei, quindi avrà già acquistato il tuo servizio nella sua mente e tu dovrai solo fissare un appuntamento perché già saprai che sei il grande centro Fiat. Adesso fammi sapere cosa ne pensi tu di questo video con i commenti qua sotto. Alla prossima!